buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buona settimana siamo nella settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 abbiamo visto che settimana scorsa il sole e mercurio sono entrati nel segno dei pesci e c'è stata la luna piena nel segno della vergine ovvero sole in pesci e luna nel segno della vergine questa settimana invece non ci sono movimenti spostamenti particolari dei pianeti quindi i pianeti stanno continuando il loro percorso nei segni in cui si trovano ma c'è da dire che c'è una concentrazione particolare di pianeti in tre segni solamente ovvero abbiamo due stellium stellium in gergo astrologico vuol dire una concentrazione di almeno tre pianeti in un segno e abbiamo quindi due stellium uno nel segno dell'acquario uno nel segno dei pesci nel segno dell'acquario abbiamo plutone venere e marte mentre nel segno dei pesci abbiamo ben quattro pianeti saturno sole mercurio e nettuno quindi abbiamo un'enorme concentrazione di pianeti in questi due segni e poi abbiamo ancora come insomma da parecchio tempo giove e urano nel segno del toro quindi c'è una concentrazione incredibile di pianeti in soli tre segni e solo la luna è diciamo la battitrice libera che sta ovviamente come tutti i mesi percorrendo i segni il suo ciclo ovviamente prevede che in 30 giorni percorra tutto lo zodiaco e questa settimana la luna si sposta dal segno della vergine dove si trova inizio settimana fino al sagittario quindi attraversa vergine bilancia scorpione e sagittario e abbiamo diverse congiunzioni che si verificano appunto nel segno dell'acquario e dei pesci o meglio venere e marte sono ancora congiunti a inizio settimana si sono congiunti la settimana scorsa nel segno dell'acquario e una congiunzione venere e marte molto potente soprattutto per quanto riguarda l'energia primordiale erotica sessuale sentimentale che ovviamente va tutto a vantaggio dei segni d'aria e anche di alcuni segni di fuoco in particolare sagittario e ariete e sempre inizio settimana abbiamo una potente congiunzione tra sole mercurio e saturno nel segno dei pesci una congiunzione che dà coesione coerenza e capacità di mettere in pratica di portare nel mondo materiale nella realizzazione tutte quelle che possono essere le idee le visioni in questo momento sono abbondanti per i pesci questa tripla congiunzione ovviamente va a vantaggio dei segni d'acqua ma anche di due segni di terra e che sono il toro e il capricorno prima di proseguire a vedere cosa questi queste configurazioni promettono ai vari segni vi ricordo come sempre che ovviamente io parlo del segno perché queste configurazioni si riflettono grazie agli angoli geometrici che i pianeti formano sulla ruota sul cerchio dello zodiaco ovviamente vanno a vantaggio di alcuni segni ma voi non siete il segno per cui a volte leggo dei commenti che dicono ah ma non è vero va tutto male per questo segno tu invece stai dicendo che va tutto bene ebbene tu non sei il segno non sei il tuo segno hai il sole in quel segno ma avrai mercurio venere marte giove saturno urano eccetera eccetera la luna soprattutto che è una parte importante dell'identità vanno magari sono posizionati in altri segni dello zodiaco quindi ovviamente questo è come un puzzle perché la nostra personalità è un po un insieme di cose per cui abbiamo dei compartimenti che a volte non sono stagni ma comunque si influenzano a vicenda ma comunque abbiamo l'area emotiva l'area sentimentale che diciamo rappresentata più dalla luna da venere abbiamo l'area mentale intellettuale che è più quella di mercurio di saturno abbiamo l'area della nostra aggressività della nostra capacità di agire di buttarci che è marte e in parte anche il sole e poi abbiamo i pianeti generazionali che sono urano nettuno e plutone che ovviamente danno una sfumatura in comune a tutte le persone nate in una certa generazione ma nel tema natale possono formare degli aspetti con i pianeti personali ovvero sole luna mercurio e venere e anche marte anche qui dando una sfumatura particolare correggendo un po l'interpretazione quindi che si può avere classica di quel di quell'aspetto o anche della posizione del pianeta in quel segno poi ci sono le case che ancora un altro aspetto importante che rappresentano di solito gli ambiti in cui si esprime l'energia del pianeta per cui se abbiamo un sole in decima casa in quarta casa in settima casa ovviamente avremo la nostra energia principale fisica e la nostra coscienza che si esprime soprattutto in un certo ambito che può essere quello della famiglia oppure quello della società quello del lavoro quella della professione oppure quello del matrimonio o della del rapporto con gli altri quindi a seconda di della casa in cui i pianeti si trovano si esprime di più in un certo ambito e quando mi scrivete io sono che ne so capricorno ascendente pesci l'ascendente nei transiti quindi quando io parlo dell'influenza che i pianeti hanno sui vari segni ebbene l'ascendente non è proprio contemplato perché l'ascendente è la cuspide della prima casa che è quella della personalità della persona spesso si può individuare anche un po l'aspetto fisico dalla prima casa o dall'ascendente però nei transiti non ha tantissima importanza a meno che il pianeta non sia congiunto con l'ascendente ma tenete conto che un ascendente ha di fronte a sé il discendente che vuol dire gli altri cioè l'ascendente è l'io il discendente sono gli altri e i pianeti si esprimono soprattutto quando sono nella casa quando sono di transito nella casa si attivano spesso delle componenti gli ambiti per esempio quando un pianeta passa nella sesta casa ebbene potrebbe essere il lavoro o la salute la cosa che diventa prevalente in un certo periodo della vita di quella persona ma l'aspetto sull'ascendente è un po debolino insomma non ha tantissimo impatto quindi è importante sapere dove avete i vari pianeti non in questo in questo ambito non non l'ascendente e potete scoprirlo potete calcolare il vostro tema natale su un sito che è gratuito che si chiama www.astro.com e potete appunto rilevare i vostri i vostri pianeti in che casa sono in che segno sono eccetera eccetera se per caso siete incuriositi e magari volete seguire meglio anche le previsioni detto questo scusate il lungo preambolo però a volte è importante ribadire certi concetti anche per voi quando ascoltate così sapete un po meglio di cosa stiamo parlando e quindi passiamo adesso a vedere come va per i segni in questa settimana e ovviamente cominciamo come sempre con la riete al quale le cose stanno andando benino direi comunque meglio dell'anno scorso è finita la pluriennale dissonanza di plutone al segno e che prendeva ultimamente soprattutto l'ultima decada e le persone nate negli ultimi due giorni del segno ora invece plutone si è messo in posizione positiva a chi è nato nei primi due giorni del segno e abbiamo in posizione positiva anche venere e marte che sicuramente movimenta la vita sociale e anche la vita amorosa e comunque permetterà ai nostri cari arieti di curarsi di più di se stessi di prendersi un po di tempo magari per fare una bella cura estetica oppure un restyling insomma venere di solito ha questo effetto mentre marte rivitalizza e vi spinge all'azione la luna magari vi ostacola un pochettino da lunedì pomeriggio fino a mercoledì sera perché si trova nel segno opposto al vostro la bilancia quindi potreste avere qualche piccolo cambiamento d'umore mentre le giornate si della settimana vanno dal primo pomeriggio di sabato fino a tutta domenica e anche oltre in realtà anche lunedì per il toro che è stato il segno favorito dei pianeti negli ultimi mesi ebbene le cose adesso sono un pochino meno positive perché abbiamo la quadratura ovvero la dissonanza dei pianeti dall'acquario quindi plutone marte e venere vero giove e urano sono sempre nel segno e hanno sempre un'influenza molto attivante molto dinamica ma benevola benefica sul segno però ecco in questa settimana in queste settimane in cui venere e marte percorrono il segno dell'acquario ebbene potreste sentirvi un po meno in forma un po insoddisfatti ci sono delle cose che all'improvviso non vi tornano più come prima vorreste dei cambiamenti ma non sapete bene quali questo può rendervi un po irrequieti ovviamente soprattutto nelle giornate in cui la luna è in scorpione ovvero da giovedì fino a sabato verso le 15 quindi fate attenzione a queste due giornate e mezzo la giornata più positiva della settimana è lunedì mattina fino alle 15 e 30 i gemelli stanno tirando un respiro di sollievo da quando questi pianeti sono nel segno dell'acquario quindi venere marte plutone è vero che soprattutto questa settimana queste settimane con anche sole e mercurio nei pesci dove già ci sono nettuno e saturno che vi stanno dando filo da torcere cari gemelli ebbene potreste sentirvi particolarmente irrequieti e avrete tantissime energie a vostra disposizione ma talvolta le sprecherete perché vi muoverete in modo frenetico senza mettere a punto veramente nulla di importante quindi fate attenzione a non disperdere troppo le vostre energie ma sicuramente state percependo che qualcosa sta finalmente cambiando e quindi anche tutta questa frenesia va bene perché sentite che l'aria veramente è cambiata si sta trasformando e le cose cominceranno a girare meglio per voi soprattutto dall'estate in poi anche a livello sentimentale probabilmente molte cose stanno succedendo in ogni caso vi sentite molto meglio nella vostra pelle anche se ancora non tutto è come vorreste proprio perché avete tuttora l'influenza dissonante di questi quattro corpi celesti e la luna è dalla vostra parte soprattutto dal lunedì al pomeriggio dal 15 e 30 fino a mercoledì sera con la luna in bilancia quindi segno amico e in quelle due giornate e mezzo sarete molto più coerenti lucidi insomma le cose fileranno parecchio lisce attenzione invece al weekend soprattutto dal pomeriggio di sabato fino a tutta domenica e oltre fino a lunedì prossimo perché la luna nel segno opposto ebbene potreste sentirvi un po fuori posto comunque non in perfetto allineamento con i vostri desideri con il vostro ambiente il segno del cancro è uno di quelli che vanno alla grande in questo momento dopo 15 anni di opposizione da parte del pianeta plutone finalmente siete liberi siete cresciuti siete diventati più maturi più profondi avete fatto tante esperienze e le state mettendo tutte a frutto perché in questo momento avete il vantaggio dei pianeti che vi stanno aiutando dai pesci e dal toro quindi abbiamo soprattutto questa settimana sole mercurio saturno e nettuno dai pesci che vi danno un enorme supporto e un po a tutte le decadi e giove urano dal toro quindi avete la possibilità di mettere a punto di portare avanti di espandervi di veramente potete anche decidere cosa fare nei prossimi anni non solo nei prossimi mesi perché potete con questi transiti programmare portare avanti a lungo dei progetti importanti vi accompagnerà anche un po di fortuna che non fa mai male e le giornate sì di questa settimana sono quelle che vanno soprattutto da giovedì a sabato pomeriggio ma anche lunedì mattina mentre invece attenzione alle giornate dal lunedì pomeriggio dalle 15 e 30 fino al mercoledì sera perché la luna è dissonante in quelle giornate e potreste sentirvi un po fuori ritmo arriviamo al leone che è il segno che più in questo momento sta patendo per i vari transiti anche qui ovviamente mi riferisco al segno solare quindi al segno in sé e non agli individui che possono avere il sole o altri pianeti nel leone però se siete del leone e magari avete anche altri pianeti nel leone ebbene potrebbe essere un momento un po pesante e faticoso in questo momento perché c'è cominciate a sentire l'opposizione di plutone che sta battendo su chi è nato nei primi due giorni del segno e potrebbe portare una revisione dei propri progetti ma anche delle proprie motivazioni più profonde inoltre marte opposto potrebbe farvi sentire un po di stanchezza un po di demotivazione mentre venere opposta potrebbe farvi sentire poco amati ovviamente si tratta di una percezione personale non è la realtà oggettiva delle cose però potreste sentirvi un po trascurati dalle persone amate un poco attraenti poco affascinanti ebbene non è così cari leoni però potreste sentirvi in questo modo inoltre giove urano continuano ad essere dissonanti anche loro e questo ormai lo sono da un anno e circa per quanto riguarda giove urano ovviamente rimane sette anni in un segno quindi adesso sta battendo su chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade e porta la voglia di scombinare i progetti magari ormai anche avanzati e cambiare trasformarsi anche se anche qui non si sa bene come volete attuare questo cambiamento cosa volete davvero fare per fortuna questa settimana la luna è in segni congeniali per un bel po di giorni quindi da lunedì pomeriggio fino a mercoledì sera è nella bilancia e nel weekend è nel sagittario quindi due segni amici che vi fanno sentire più a vostro agio attenzione le giornate veramente no sono quelle che vanno da giovedì a sabato fino alle 15 e quindi in quelle due giornate e mezzo potreste essere veramente un po giù di morale un po giù di tono o comunque essere in un conflitto aperto con il vostro ambiente la vergine continua ad avere da ormai parecchio tempo il supporto di giove e urano dal toro di giove porta fortuna in questo momento sta cominciando a toccare la seconda decade mentre urano porta una voglia di fare voglia di progetti voglia di lanciarsi insomma voglia di azione però in questo momento con quattro pianeti nel segno opposto quindi saturno che adesso si sta facciando anche lui sulla seconda decade il sole e mercurio sono pure nella seconda decade e nettuno è nella terza quindi soprattutto queste due decadi la seconda e la terza saranno un po si sentiranno un po ostacolate o perché saranno proveranno stanchezza oppure verranno a mancare le motivazioni di fondo per fare certe cose e quindi vi potreste trovare un po sperduti cari vergini cari vergini ebbene se questo è il caso state tranquilli state fermi perché le cose anche se sembrano stagnanti in realtà sotto sotto stanno trasformandosi e si tratta semplicemente di avere un po di pazienza la settimana inizia con la luna nel vostro segno quindi soprattutto lunedì mattina sarà un momento molto utile per voi per realizzare quello che volete fare e le altre giornate sì della settimana sono vanno da giovedì fino a sabato alle 15 mentre il weekend con la luna in sagittario ebbene si consiglia di non fare nulla di impegnativo di rimanere un po tranquilli perché non è non sono proprio le giornate giuste la bilancia sta veramente tirando il fiato come si dice cioè ha visto la luce in fondo al tunnel si sta ricaricando si sta ritemprando sta tornando ad avere energia che aveva un po perduto ultimamente e soprattutto dal punto di vista delle relazioni e delle storie d'amore sentimentali ma anche semplicemente delle amicizie delle relazioni in genere ebbene le cose si stanno muovendo bene anche per la bilancia è venuto meno la dissonanza decennale di plutone che ora invece è amico si è trasformato in alleato e quindi sta ricaricando chi è nato nei primi due giorni del segno che comincerà ad avere una carica magnetica un'intensità più forte del solito di prima e anche le proprie motivazioni i propri progetti i propri scopi saranno più chiari e delineati la luna questa settimana è nel vostro segno da lunedì pomeriggio fino a mercoledì sera e poi sarà in un segno amico nel corso del weekend dal sabato pomeriggio e non si trova in nessun segno dissonante quindi a livello emotivo a livello di sensazioni di intuizioni andrete alla grande gli scorpioni non si possono lamentare lo dico subito come avvertimento perché è un po allora gli scorpioni amano un po drammatizzare tutte le loro situazioni sembra che nessuno soffra come loro però cari scorpioni in questo momento è vero che avete l'opposizione di giove urano dal toro ed è un bel po di tempo che ce l'avete e state anche sperimentando la quadratura ovvero un'altra dissonanza da parte di venere marte plutone che potrebbe un po complicare la vostra vita sentimentale soprattutto e magari privarvi di un po di energia però in realtà avete anche tantissimi supporti dal segno dei pesci che è vostro amico fraterno ebbene nei pesci ci sono ben sole saturno mercurio nettuno quindi da quel punto di vista non siete senza armi non avete gli artigli spuntati anzi potete quindi sicuramente realizzare tantissime cose magari questo momento particolarmente dinamico magari un po di agitazione vi può servire per capire veramente che cosa volete davvero e in che direzione è meglio andare quindi rimboccatevi le maniche e agite e la luna è tutta positiva per voi questa settimana infatti si trova in un segno amico il lunedì mattina in un segno neutro le giornate successive nel vostro segno da giovedì a sabato pomeriggio e poi ancora in un segno neutro nel weekend quindi potete veramente soprattutto nelle giornate tra giovedì e sabato affinare il vostro fiuto il vostro intuito indirizzare drizzare le antenne per capire meglio voi stessi all'interno e anche le altre persone all'esterno il sagittario ha vissuto una rivitalizzazione recentemente e continua ovviamente a ricevere buone energie dai pianeti nel segno dell'acquario segno amico alleato energie che investono chi è nato nei primi due giorni del segno e ricevono ovviamente l'energia di plutone che approfondisce da una carica incredibile anche creativa energetica importante e le energie di marte e venere che ovviamente vanno a tutto vantaggio delle relazioni amorose sentimentali ma anche in generale quelle interpersonali marte spinge anche a prendere l'azione a fare delle cose concrete a buttarvi e vi dà energia da vendere cosa che ci vuole perché in questo momento state anche ricevendo le dissonanze dai pianeti che sono in transito nel segno dei pesci e quindi ci sono saturno nettuno che stanno agendo già da un bel po di tempo e saturno soprattutto ha portato un po di depressione a chi è nato nella prima decada e adesso si sta spostando nella seconda decada e quindi attenzione chi è nato all'inizio della seconda decada potrebbe sentire questa sorta di calo di vitalità di calo di motivazione o di un po di demoralizzazione nettuno porta confusione illusioni a chi è nato nella seconda parte della dell'ultima decade della terza decade quindi chi è nato nell'ultima settimana del segno sostanzialmente il sole mercurio invece danno un po di fastidio a chi è nato tra la prima decade e la seconda decade questa settimana e portano forse un po di calo di vitalità questo per quanto riguarda il sole quindi un po di stanchezza fisica o mentale e mercurio invece soprattutto stanchezza mentale o incapacità di concentrarsi e anche una certa facilità alle gaff quindi attenzione a quello che dite ha maggior ragione nella mattinata di lunedì quando la luna è ancora dissonante per il resto della settimana sarà invece in segni neutri o amici come la bilancia dal lunedì pomeriggio fino a mercoledì sera e nel vostro stesso segno dal sabato pomeriggio fino a domenica e anche lunedì prossimo il capricorno è un altro di quei segni che sono proprio a cavallo e galoppano alla grande e non hanno nessun nessuna dissonanza in questo momento ricevono i buoni aspetti di giove urano dal toro e di tutti i quattro pianeti che si trovano in questo momento nei pesci quindi profusione di energie profusione di appoggi sostegni che per che permeano un po tutte le decadi quindi tutte le decadi sono piuttosto coperte forse a parte la prima decade che quella un pochino meno coperta da buoni transiti ma è che comunque non ha nemmeno cattivi transiti quindi la prima decade poi è andata alla grande fino a questo momento con i buoni aspetti di giove e saturno che adesso vanno ovviamente invece a beneficiare chi è nato nella seconda decade c'è anche un pizzico di fortuna che aiuta con il buon aspetto di giove e c'è una spinta a realizzare tantissimo soprattutto quella di urano ma anche quella di saturno stesso di giove sono pianeti che vi incitano proprio a darvi da fare a realizzare a concretizzare tutto quello che avete in mente e avete veramente la possibilità di portarvi avanti e di andare lontano e anche mercurio vi aiuta con la sua agilità mentale e nettuno con la sua fantasia le giornate si sono la mattinata di lunedì e i giorni tra giovedì e sabato pomeriggio mentre attenzione le giornate no sono quelle che vanno da lunedì pomeriggio a mercoledì sera e l'acquario è uno dei protagonisti di questo momento insieme ai pesci e al toro con parecchie parecchie energie a proprio favore è vero l'acquario riceve sempre la quadratura ovvero la dissonanza da urano e giove ma ormai forse si è un po' abituato a ricevere queste energie che l'hanno un po' bloccato l'hanno un po' limitato ma niente paura perché in questo momento con plutone nel segno con marte e venere vi state rifacendo alla grande veramente c'è un momento di rivalsa di recupero di energie del tempo perduto quindi nessun problema cari acquari perché in questo momento potete andare veramente alla grande soprattutto dal punto di vista delle relazioni interpersonali sentimentali di amicizia di qualsiasi tipo in questo momento vi sentite veramente pieni di voglia di comunicare di uscire allo scoperto di gettarvi un po' nella mischia molto più di prima e ci potrebbe essere anche qualche innamoramento per gli acquari e sicuramente una rivitalizzazione nell'ambito delle relazioni sentimentali la luna vi è amica per parecchie giornate di questa settimana a cominciare dal pomeriggio di lunedì fino al mercoledì sera e poi anche il weekend dal sabato e poi continuando fino anche a lunedì successivo invece le giornate no dove magari non vi sentite completamente allineati potreste avere qualche discussione per esempio con le persone intorno a voi sono le giornate che vanno da giovedì a sabato pomeriggio ed eccoci alla fine del nostro ciclo del nostro cerchio zodiacale con il segno dei pesci un altro segno che va alla grande che non conosce rivali perché in questo momento riceve solo energie benefiche intanto nel segno stesso stanno transitando il sole e mercurio che rivitalizzano dal punto di vista fisico mentale intanto è anche il momento della rivitalizzazione annuale questa per i pesci con il transito del sole nel segno quindi intanto buon compleanno a tutti i pesci che compiono gli anni in questo periodo e poi ci sono saturno e nettuno che sappiamo sono da parecchio tempo in questo segno e saturno ora si sta spostando nella seconda decade e va quindi a dare quella sua energia di lungimiranza capacità di realizzazione concretezza che al segno fa molto comodo visto che come natura i pesci non sono molto concreti e questa parte del carattere dei pesci lo stanno vivendo alla grande quelli della terza decade che hanno nettuno che amplifica le qualità del segno rende un po visionari rende molto creativi ma ahimè magari ecco manca un po in concretezza per fortuna anche dal toro ci sono i buoni aspetti di giove e di urano che aiutano a realizzare e in questo momento si stanno concentrando anche questi pianeti sulla seconda decade che quindi è veramente spinta a fare a muoversi ad agire ed è bene perché questi questa convergenza di energie così positive ebbene non è una cosa tanto comune e probabilmente non vi capiterà molto facilmente negli anni a venire cari pesci quindi datevi da fare è proprio il momento la luna storta questa settimana sarà concentrata nelle giornate di lunedì mattina e nel weekend da dal pomeriggio sostanzialmente quindi a tutta la domenica ma nelle giornate tra giovedì e sabato fino al primo pomeriggio ebbene andrete alla grande e con questo abbiamo terminato anche questa settimana io vi saluto vi auguro un'ottima settimana a qualunque segno apparteniate e ci sentiamo settimana prossima e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com